Non esiste nella normativa regionale la previsione di commissariamento di un comune nel caso di mancata attuazione del piano di zonizzazione acustica. È la replica secca che l'amministrazione comunale di Trieste indirizza alla regione che ha invitato Palazzo Cheba ad adempire le norme che impongono la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche. Il piano è pronto, spiega il sindaco di piazza, ma al momento non è applicabile perché i livelli massimi di rumore in esso previsti andrebbero a penalizzare i residenti nelle zone di insediamento industriale. Se io porto avanti la zonizzazione, tutti quei cittadini che stanno vicino alla feriera di Servola rientreranno in un limite che adesso è 55-60, arriveranno 65-70, per cui andrei a penalizzare i cittadini che stanno vicino, proprio quelli attaccati alla feriera. L'unico potere in capo alla regione, spiega l'assessore all'ambiente Luisa Polli, è quello di sostituirsi al comune nella redazione del piano, qualora quest'ultimo non provveda nonostante le diffide ricevute. Ma in questo caso, insiste l'assessore, il piano acustico regionale andrebbe ad alterare due strumenti come il piano regolatore e il piano del traffico, in spregio alla competenza del comune e ai diritti dei cittadini. E per quanto riguarda specificamente Servola, l'assessore Polli sottolinea come la Presidente Seracchiani abbia chiesto un piano stralcio per quella zona. Ma tale previsione non esiste nella normativa e quindi questa, secondo Polli, pare essere una richiesta strumentale finalizzata a scaricare la responsabilità sul comune per la diffida nei confronti di Siderurgica Triestina, quando viceversa serve una revisione dell'autorizzazione integrata ambientale tra cui rientrano i livelli di emissioni sonore. La regione che mi sta attaccando in questo momento, che faccia invece il suo, che guardi i dati, che veda cosa è scritto l'AS e poi alla fine probabilmente troverà la forza per riaprire questa famosa AIA che credo che abbiamo bisogno di riaprirla per tutelare la salute dei cittadini.